Puoi riascoltare le interviste e gli approfondimenti di Voce delle Chiese sul sito www.rbe.it Si avvicina la data del 17 maggio, una data che ricordiamo ogni anno con grande attenzione e su cui ci soffermiamo anche con numerose interviste e approfondimenti giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra dal 2004, quindi festeggia in effetti i 20 anni di esistenza questa giornata che nell'arco di questi decenni ha visto la collaborazione ma soprattutto anche la consapevolezza maggiore di moltissime realtà, organismi ma anche delle nostre chiese. L'ambito chiese non è esente da questa riflessione, sicuramente non lo è l'ambito delle chiese protestanti e infatti abbiamo con noi la pastora valdese Daniela Di Carlo, pastora attualmente in servizio a Milano. Buongiorno Daniela, bentornata, ciao! Buongiorno ed è sempre un piacere essere con voi anche per le antiche partecipazioni alla radio, quindi sono contenta. Grazie, siamo contenti anche noi anche perché ogni anno la commissione di cui fai parte, la commissione fede, genere e sessualità delle chiese battiste, metodiste e valdesi collabora con la REFO, con la rete evangelica e fede e omosessualità collabora con il portale jonata.org e collabora con tante altre realtà per creare una proposta che è anche una proposta liturgica in vista proprio del 17 di maggio. È stato così anche quest'anno? Naturalmente sì, in realtà diciamo che la liturgia viene fatta concretamente proprio dalla nostra commissione che la traduce direttamente anche in inglese, poi jonata la distribuisce, la fa tradurre anche in spagnolo e viene inviata un po' ovunque in particolare in Europa. Ed è bello perché proprio in questi giorni c'è stato il forum europeo LGBTQ plus qui a Milano e ho scoperto che persone dal Portogallo piuttosto che dalla Finlandia usano la stessa nostra identica liturgia, quella proprio scritta dalla nostra commissione. Benissimo, obiettivo raggiunto direi. Senza dubbio. Allora il versetto che quest'anno fa un po' da filo conduttore per le veglie di preghiera è un versetto tratto dal Deuteronomio, il capitolo 31, il versetto 6 dice siate forti non temete perché Dio cammina con te. È un invito a non mollare la presa su questa tematica. Sì, effettivamente è vero perché ancora oggi all'interno anche solo della cristianità vi sono delle fortissime difficoltà a sentirsi accolti e quindi non dobbiamo mollare la presa anche perché a volte le chiese che non sono protestanti con difficoltà ospitano le veglie nonostante che non sia la veglia un momento nel quale c'è un'approvazione pubblica della realtà LGBTQ plus ma la veglia è soltanto un momento che ricorda le vittime di tutte le persecuzioni legate al genere. Quindi voglio dire è veramente qualcosa che coinvolge l'intera società e quindi tutte le chiese. Sì, è un momento in cui come purtroppo ci sono altri momenti durante l'anno ricordiamo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne tanto per citarne una però in cui si rende diciamo onore anche a coloro che in qualche modo si sono battuti e hanno purtroppo dovuto sacrificare con la propria vita anche le cose in cui credevano ecco il loro impegno. Certamente sì, per esempio è stato interessante verificare che al forum europeo che si è proprio concluso sabato alcune persone provenienti dall'est Europa non hanno ottenuto i visti per poter partecipare al forum perché in alcuni paesi ancora oggi l'orientamento sessuale dà origine alla cattura, l'incarcerazione, processo eccetera eccetera quindi ancora una realtà tutta da lavorare. Assolutamente. Quest'anno peraltro in occasione appunto delle veglie, dei culti, delle serate di approfondimento. Sarà distribuito anche un libretto, un libretto dal titolo anche noi abbiamo un sogno. Di che cosa si tratta? Raccoglie delle testimonianze, da un lato la testimonianza proprio delle prime persone che si sono mosse e hanno iniziato a fare le veglie in Italia. Inconsapevolmente forse hanno dato origine a un movimento ecumenico del basso proprio perché erano chiese diciamo nostre protestanti BMV che si associavano a chiese cattoliche quindi è nato veramente un ecumenismo molto interessante e poi raccoglie anche le testimonianze di genitori che hanno dovuto lottare con se stesse contro la propria misoginia, omofobia o transfobia eccetera e poi una piccola introduzione sul perché sia ancora così necessario fare le veglie oggi. Il libretto peraltro si può anche scaricare dal sito jonata.org è consultabile così come sono consultabili tutti i luoghi, le chiese che accoglieranno dei momenti di preghiera e già ne stiamo citando alcuni in queste giornate. Questo progetto ricordiamo è anche sostenuto dall'Otto per Mille delle chiese valdesi. Certamente sì, siamo per questo molto fieri, anche il forum europeo è stato sostenuto dall'Otto per Mille siamo veramente anche molto orgogliosi di dare degli spazi di libertà non soltanto ai protestanti ma anche appunto a associazioni come può essere la tenda di jonata piuttosto che altre che comunque pongono proprio la libertà individuale come un obiettivo che vada anche al di là della propria fede evangelica ma della fede appunto che può essere cattolica, ortodossa o addirittura anche di coloro che sono senza una fede cioè è comunque qualcosa che lavora per tutta la libertà delle persone. Certo, la scheda peraltro liturgia, scheda omiletica per la giornata del 17 di maggio si può trovare anche sul sito chiesavaldese.org è proprio uscito in questi giorni un articolo che ne parla mentre ripetiamo jonata www.jonata.org anche per l'elenco completo di tutti gli eventi a cui se volete potrete ovviamente partecipare sarete i benvenuti e le benvenute io ti ringrazio Daniela per essere stata con noi, Daniela Di Carlo e buon lavoro a te e insomma a tutte le iniziative che porti avanti un saluto alla chiesa valdese di Milano Grazie, un saluto a tutti e a tutte voi e a presto A presto, ciao E andate alle veglie, mi raccomando Assolutamente sì, andremo alle veglie Grazie Daniela, ciao